Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video un po' particolare, siamo su Five Nights Freddy's 4 ragazzi Allora, siamo qui per farci una bellissima partitina tra di noi Questa è la versione 1.0 ragazzi Avete chiesto appunto sui FAQ se facevo qualche serie horror Questa è abbastanza spaventosa ragazzi 5 day until the party, quindi 5 giorni all'inizio della festa Ok, questo cupazzetto mi preoccupa, dovrebbe essere Freddy What did he do this time? He locked you in your room again Ok, siamo chiusi di nuovo nella sua stanza Non ti spaventare, è meglio che vuoi più Quindi lui è con te, quindi questo mino è con noi Che fa? Muove gli occhi a quel coso Questo che dice, this is my friend, questi sono i miei amici Ok, avvicinandosi alla porta bussiamo Farò un paio di tentativi non di più ragazzi, eh 1-2, dipende Dipende quanto c'ho strizza e quanto tempo ci impieghiamo E quanto tempo resistiamo Domani è un altro giorno Dice Allora, io potrei anche levare i tips Però me li lascio, perché c'è un modo per levare i tips Io me li lascio invece, perché sono comodi da cliccare Allora, night 1 Sta caricando Vedo già quello orzacchiotto e mi preoccupa Click here to run to the door Vedete? In questa maniera posso entrare qui Con CTRL posso accendere la luce E con shift posso chiudere la porta Ok Allora, posso cliccare qui per andare davanti E a mezzanotte dobbiamo resistere fino alle 6 ragazzi Ok Vai Così Click here to run to the door E se vogliamo girarci basta abbassare la schermata Vedete? E c'è l'orzacchiotto cattivo Ok Potrei pure levare i tips Però preferisco nerli Non so perché È la prima volta quindi li terrò Allora, sentiamo bene i suoni ragazzi Allora Click here to run to the door Click here to run to the door Non sento respirare nessuno Ok Allora, dovrebbe apparire da queste parti E noi dobbiamo resistere Vivi È l'una di notte Ok Non c'è nessuno Andiamo qui Ok Non c'è nessuno Perfetto Voglio girarmi Ok Non c'è nessuno manco qui Non sento suoni Se sentite respirare ditemelo In modo di dire Perché tanto non me lo potete dire Stiamo in un video Vado qui di nuovo Ok Niente Corriamo di qua Ok Non c'è nulla Io mi preoccupo più del letto Perché io so che degli omini Spawnano sul letto Due di notte Ok Niente di qua Niente movimenti davanti Gira Nessun movimento sul pupazzetto Sento dei suoni Qui non c'è nulla Nessun respiro Perché dovremmo sentire dei respiri Già me sto a strizzare C'è una paura infinita Ok Adesso è tutto tranquillo Anche i pupazzetti dietro sono tranquilli Ok Niente Niente Perfetto Stiamo quasi sculando Sono due di notte Ancora non succede nulla Tre Ok Nulla Mi voglio girare di nuovo Ok niente Di qua Niente Mamma mia che strizza raga Mi sa che ve ne faccio una sola eh Perché io già sto a morire paura Oh Troia Ma Ma preso Ah Paura tremenda Ci riprovo un'altra volta Dai Siamo arrivati alle 3 di notte Non eravamo Montanissimi Erano altre 2-3 ore Oh Se può fare continuo eh Ok Oh Oddio Paura 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 Riproviamo il giorno 1 Ma voi siete proprio sadici eh Vi piace proprio vedermi mettere Paura da panico Allora Proviamoci 12 di notte Ok Ok Niente di qua Eh Non funziona CTRL Ok Eccolo Mezzanotte È sempre tutto abbastanza tranquillo Nessun respiro Quello era un cellulare Che era il mio Ok Qui nessuno C'ho una strizza raga Potete capì Non potete capì Io ne sopporto i giochi horror Ok Ok Qui niente Poi ci stanno Ste musichette Maledette Che devono proprio tutto Oh Ho sentito una voce Ok Qui niente Qui niente Siamo luna di notte Ok Nulla Ok Nulla Ok Nessun respiro Perfetto Eh Dietro Nulla Eh Ho visto Il movimento qua Ok Nulla Nulla Madonna Quanto sta a strizzarci Credo Pensai che è un gioco Semplicissimo Ok Nulla Lì al centro Non succede quasi mai niente Ok Nulla Ho una paura Fracica Ok Dietro non si sono formati Iomini Ok Nulla Nulla Sto con i suoni Pure abbastanza Decenti Per sentire Se arriva qualcuno Sono le due di notte Ricominciamo Moving Ci diventa più difficile Oddio Ok Nulla Nulla Infatti Non avevo sentito Nessun suono Vediamo un po' Indietro Ok Nulla Siamo di nuovo Quasi a lì Dari raga Cominciano i giochi Brutti Su respiro Aspetta La dieta Non c'è Su respiro Oh Stava qua Ok Si è andato Oh L'ho visto Oh 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 Voi fatta scappare Volevate fregarmi Sono le quattro Sono le quattro di mattina Dai 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 Sei andato Ok Stava Della Dietro Ah T'ho fatto scappare Oh Lì frega Voglio andare un attimo qua Ok Ok Non c'è Sono le quattro raga Ok Non c'è Girate Oh Andiamo lì frega Eh Ok Tornate indietro Cinque Siamo quasi Le tere sei di mattina Ok Non c'è Non ci sono movimenti al centro Non c'è Io c'ho paura di questo dietro Ok Cinque di mattina raga Perfetto Ok Non c'è Non c'è Non c'è dietro Dai che sta Mascula Ok non c'è Madonna che strizza Non c'è Non c'è Ok Dietro no Qui Oh Ce l'ho fatta Oh In due tentativi Due tentativi Il primo giorno è passato Ragazzi Il primo giorno è passato Allora Se vi piace Questo gioco Voglio vedere Una fracca di like Qua sotto Eh Ma proprio tanti Perché io ho una paura Fracica Quindi siamo più De 100 150 Quelli Ho visto su notib Siamo 150 Followers Quindi Volete vedere il continuo Di questo gioco Arriviamo almeno a 100 150 Mi piace Ok ragazzi Perché io ho una paura Fracica di questi giochi Quindi mi dovete convincere Va bene ragazzi Questa era Five Night Freddy's 4 Spero vi sia piaciuto E ci vediamo alla prossima puntata Se la volete